Chi siete voi? Io sarei per me e te. Io sono Dorothy. Ho l'impressione che non siamo più nel Kansas. Io riuscirò a prendermi te, il tuo odioso cagnanino. Non ho paura di lei. Ti porterò sana e salva dal mago. Posso venire con te? Ma certo, con piacere. Leone, 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 leone. La mia festicciola sta per cominciare. E portatemi la ragazzina e il suo cane. Eravate, avate! Mi prego aiutami a tornare a casa d'attenzia Emma. Siamo in viaggio da talmente tanto tempo. Vedrai che presto tutto cambierà. Vogliamo vedere il mago? Non state facendomi perdere tempo! Fatevi sotto, fatevi sotto! Fatevi sotto, fatevi sotto! Io sono Dorothy! Venite avanti! Ho troppa paura! Andiamo! Dove so... Mi prego aiutami a tornare aauen coses di barriji... Ho troppa... 她 è avanti enjoy! Mi prego aiutami a tornare a tar... Aiutami, non to anche decision. Ho troppa poiration daростäura Fredko palmone oltre mese! Grazie a tutti.